La Senna sale inesorabile, 2-3 cm l'ora, 11 le vittime finora accertate ma potrebbero essere molte di più ammesso. Poco fa il ministro dell'ambiente francese, Ségolène Royal, con il successivo abbassamento delle acque potrebbero infatti emergere altri corpi. Acqua che assedia il Louvre, oggi costretto a chiudere, serrate anche le finestre del Museo d'Orsay. Uno di fronte all'altro, sulle due sponde opposte, sembrano guardare con paura l'enorme massa d'acqua marrone del fiume che rischia di portare via con sé i capolavori d'arte custoditi al loro interno. Da ore a Parigi decine le persone al lavoro nei sotterranei dei musei per portare le opere in salvo nei piani superiori. In tre giorni è venuta giù la pioggia di sei settimane. Proprio in questi minuti è previsto il picco di Piena della Senna, circa 6 metri di altezza, e che ha già raggiunto un livello mai registrato da 34 anni. E mentre Hollande dichiara lo stato di calamità naturale, in più di 20.000 abitazioni manca l'elettricità e 2.000 persone hanno abbandonato le proprie case. Inaccessibili anche parchi e gravi problemi alla rete ferroviaria nella Francia ancora ostaggio degli scioperi, cruciali le prossime ore. I meteorologi dicono che le precipitazioni continueranno ancora per giorni a flagirlare il paese.